Allora buonasera, buonasera a tutti, sono Milana, sono qui a Reloi, ho un posto bellissimo Mi giro il microfono, grazie Allora sto facendo questo tutto per Cinzia Di Marco, che è una mia carissima amica, mi fa piacere Allora, sono a corto di argomenti in questo momento Allora sono un architetto, ho gestito un bed and breakfast, ho fatto tantissime cose in questa città Ho fatto tantissime feste, ho avuto parecchi locali piuttosto famosi Mi piacerebbe sicuramente avere un'intervista in questo momento perché non so raccontarmi, questa è la verità Bene Posso, sì Grazie Grazie Grazie